Buongiorno a tutti, ho una domanda e anche una speculazione che arriva in fianza con il Paese Arruba da sera passando per cubri le necessità finanziarie del nostro Paese. Mi ha indicato che tutte le informazioni del Bono di Governo che ci sono emiti ci sono emiti da parte del Banco Central, per lo che è relevante la parte pubblica. Mi ha indicato che prima non ci sono informazioni e il motivo di non essere trasparente, ma ha a vero con un processo che ha fatto il momento in cui il Paese Arruba sta preparato per la fianza. Se non è internazionale o local, la fianza ha fatto un processo che ha fatto il momento in cui mi ha indicato il momento in cui mi ha indicato il nostro Paese Arruba e il nostro Paese Arruba è una informazione rilevante di fianza, ma non è pubblica, non è inclusa nel presupposto del Paese Arruba e in questo caso è un Bono di Governo, ma è chiaro che il mercato local ha fatto il presto e il nostro Paese Arruba e il nostro Paese Arruba tratta di un instituto finanziario che si può essere un Bono di Governo. Adesso sono un'emissione che sia pubblicato per il Trello che ci interessa e che si può comprare e condizionare che si può pubblicare il Banco Central e questo è un'emissione che si può essere una propria un'emissione di un'emissione per il Torre. Il Torre che ci interessa e che può comprare e condizionare il gruppo per il Banco Central